Juventus difesa fa acqua contro l'Atletico Madrid, urgono rinforzi. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Leggevamo l'articolo di Tutto Sport, il giornale per eccellenza juventino. Ormai lo sanno tutti che Tutto Sport è pagato dalla Juventus e fa articoli solo e esclusivamente a favore della Juventus. Semmai che si venga a raccontare che Tutto Sport cerca di andare a fare un po' di terra bruciata attorno alla squadra di Torino. Perché è tutto falso. Semmai è l'Inter che si deve lamentare del trattamento ostile fatto da questo giornale. Noi siamo qua proprio per denunciare questo. Amici nerazzurri che ci seguite o nemici nerazzurri, sedetevi comodi. Perché adesso vi porto la dimostrazione palese che il Tutto Sport è effettivamente vergognosamente un giornale juventino. Andiamo a leggere l'articolo per quel che riguarda la sconfitta per 2-0 della Juventus contro l'Atletico Madrid. E poi andiamo a leggere la stessa testata giornalistica Tutto Sport per quel che riguarda l'Inter che è perso contro l'Al Itiad per 2-0. Ricordiamo squadra circa di Serie C della squadra del paese arabo. Qui saltano gli altarini. Io mi vergogno da Juventino. E voi Juventini guardate questo video fino alla fine e vergognatevi di essere accompagnati da un giornale che vergognosamente giorno dopo giorno aiuta la Juventus. Nascondendo determinati articoli, non parlando di altre situazioni che non riguardano la Juventus. Addirittura cercando di mettere Zizzagna nell'ambiente prima del campionato. Cari amici interisti dovete lamentarvi e anche tanto. Prima di partire con il vero e proprio contenuto della lettura dei due articoli. Come sempre vi invito a mettere un bel like e aspettare la fine per commentare con il vostro pensiero. Ma non dimenticate di farlo perché è molto molto importante. Come vi dico sempre lasciare il segno del passaggio in un momento storico come questo dove praticamente la realtà viene camuffata. Diciamo così. E i giornali ultimamente sono diventati specialisti. Ma non ultimamente perché abbiamo visto anche dal 2006. Ma ora come ora le cose te le fanno davanti agli occhi. E non te ne accorgi neanche. Però c'è qualcuno che ci fa notare che c'è un leggero modus operandi differente quando si tratta di parlare della Juventus. E quando si tratta di parlare della povera squadra di città laggiù. Che è continuamente vessata, devastata, assillata dagli odiatori e dai giornali che gli sono nemici. Allora andiamo a leggere, massima condivisione di questo video. Ragazzi, come sempre, condividiamo il più possibile. Perché questo fa capire come quello che ci hanno raccontato fino adesso forse non è proprio vero. Andiamo a leggere perché nell'ultima amichevole, prima del debutto in campionato, i bianconeri battuti 2-0 a Göteborg dalla squadra di Simeone. Vlaovic ancora indietro. La divina verità io la partita purtroppo non l'ho vista perché ero in piscina con la mia famiglia. Sono tornato circa mezz'ora fa, 40 minuti fa. Ho guardato gli highlights, ho letto qualche articolo. E da gli highlights sinceramente non mi è dispiaciuta la Juventus. Perché naturalmente sono highlights, non è tutta la partita. Perché ha proposto, ha fatto dei passaggi, cerca di verticalizzare. Poi gli errori in difesa ancora ci stanno, c'è tanto da registrare. Ma ho visto un gran bel centrocampo, nonostante Locatelli abbia giocato ancora. Come ce lo raccontano i nostri amici della Gazzetta dello Sport, del Tutto Sport, scusate, ormai. Visto che si parla di cheerleader, Tutto Sport è cheerleader della squadra. Ora vediamo di quale, perché per quel che riguarda la Juventus fa acqua da tutte le parti. Quando parlava dell'Inter, l'Inter perde con l'Al Etihad. Polemiche fischie a Monza. Cosa è successo? E lo andiamo a vedere. I nerazzurri cadono al Lu Power Stadium contro la formazione araba allenata da Laurent Blanc. Decide una doppietta di Diaby. E adesso poi andiamo a vedere la differenza nel racconto, perché giustamente i tifosi di città laggiù si lamentano. La testata giornalistica Tutto Sport è vergognosamente peggio dell'Inter quando parla della Juventus. Perché ne sa parlare solo ed esclusivamente bene. Andiamo a leggere effettivamente che cose ci raccontano e poi dopo vediamo. Inviato a Göteborg. No, la Juventus non c'è ancora. Manca il fresco della Svezia dalla scossa per la vittoria che non arriva in queste amichevoli. Anzi, arriva un'altra sconfitta che chiude i cerchi delle amichevoli dopo il KO con il Norimberga in Germania e il pareggio con il Brescia a Brescia. Sarà utile dare una bella accelerata in campo e non solo. Anche perché lunedì arrivano i primi tre punti in palio. Attenzione, è già un pochettino di pressione all'Allianz con il Como. Attenzione, nel moderno stadio Ullevi di Gotenburg e i Bianconeri prendono due schiaffi. E poi, ragazzi, prendono due schiaffi dall'Atletico Madrid che si presenta con un 5-3-2 ordinato fatto di palleggi veloci. Massimo due tocchi a cui l'utilizzo delle fasce risulta l'arma migliore. La gazzetta dello sport dell'Inter non l'ha mai detta, una cosa del genere. Però intanto viene accusato di essere il tutto sport. Intanto l'articolo qua ve lo potete leggere tranquillamente. Ma andiamo giù. È accusato il tutto sport di essere filo juventino, anzi senza filo, juventino appunto è bassa. Però è giusto che una testata giornalistica che ti difende in tutto e per tutto così come la gazzetta dello sport che fa con la squadra di città laggiù ti venga a dire che hai preso quattro schiaffi. Ma non è finita perché la Juventus è ancora troppo sperimentale dalla cintola in su. Quindi tutto praticamente. Troppo sperimentale dalla cintola in su perché i presunti titolari non sono stati ancora tesserati. A partire da Comaners, Gonzales e Galeno. Tanto per cittarne tre come sei simpatico. Adesso vediamo se poi per quel che riguarda l'Inter hanno parlato nella stessa maniera. Perché si lamentano, giustamente sono stati trattati molto molto peggio. Il giornale Tutto Sport è il giornale della Juventus e si vede da come scrivono i titoli, da come poi scrivono gli articoli. Tiago Motta lascia Danilo in panchina per mettere Cambiasso terzino destro, Caballa sull'altra fascia e Gatti Bremer centrali. Davanti alla linea difensiva il solito Turamma a regalare qualità e quantità, quantità e qualità come volete voi. Quindi Weha, Locatelli, Douglas, Luiz, Idiz e la punta Vlaovic. Cioè praticamente non è che ha raccontato come hanno giocato la differenza tra Motta e Allegri addirittura. La Juve di Motta rispetto a quella di Allegri predilige maggiormente il possesso della palla, chiaramente più verticale nei passaggi. Offre il baricentro più alto e aggredisce nettamente di più recuperando numerosi palloni. Il problema, semmai, è nel farli diventare pericolosi nella tre quarti in su, dove Idiz si accende a intermittenza. Weha risulta pericoloso solo se lanciato nello spazio libero. Vlaovic risulta ancora fuori fase, fuori gioco, fuori tutto. Vlaovic ha fatto veramente pena comunque. E allora il mercato dovrà presto alzare il tasso tecnico di una squadra che con questa cilindrata non può immaginare tanti sorpassi. Di meno che meno in curva, ovvero la situazione più difficile contro avversari tossi di Serie A in Champions League. Del resto il portiere Moldovan... Com'è? Moldovan, scusate. Esegue la prima parata alla settantasettesimo. Peraltro facile... Niente di che. Quindi la Juventus è piena di problemi. Deve per forza andare immediatamente sul mercato perché questa sconfitta è un campanellino d'allarme. Prende due schiaffi, ci racconta il giornale di Torino. Sponda Juventus. Vediamo invece che cosa raccontava quando gli due schiaffi li ha presi l'Inter contro l'Al Etihad. Le polemiche le abbiamo letto. Andiamo a leggere. L'Inter cade contro i sauditi dell'Al Etihad nella penultima amichevole della preparazione estiva nella sfida disputata all'U-Power Stadium di Monza. Decisiva la doppietta di Diaby che ha regalato il successo agli uomini di Laurent Blanc. I neri azzurri di Simone Inzaghi torneranno in campo domenica 11 agosto allo Stamford Bridge contro il Chelsea per l'ultimo test prima dell'esordio in campionato contro il Genova al Marassi il 17 agosto. Tensione nel secondo tempo. Che cosa è successo? Magari è successo qualcosa che fa capire che la squadra ha bisogno di aiuto, di qualche innesto magari della certificazione del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez che ad oggi non è ancora arrivata, la firma non c'è. Ma giustamente, ecco, Miners, Todiboh, questi sono gli argomenti che... Loro, non ti preoccupare, firmeranno, non andate a cagagli a quelli là che sono tranquilli perché dovete rompere a quelli là che stanno lavorando tranquillamente si sono già messi a posto, in difesa sono a posto, centrocampo tutto a posto in attacco tutto a posto, al VAR c'è il meglio che possono avere Rocchi è stato riconfermato per altri due anni a 500.000 euro di stipendio complessivo loro sono a posto, parliamo di altre squadre che invece ancora si devono sistemare. Il motivo della discussione è una presunta gomitata che Mosa Diabì avrebbe dato al giovane nero-azzurro Alessandro Fontana Rosa. Basta, finito qua, ve lo potete leggere voi. Vi leggete il resto e vi rendete conto della differenza di trattamento di quando parlano della Juventus e quando parlano dell'Inter. L'Inter perde 2-0 contro una squadra che neanche in Serie B potrebbe giocare però attenzione, attenzione, ha perso 2-0, vabbè, rigiocherà tra 15 giorni, tra 11 giorni allo Stamford Bridge, non c'è nessun problema. Eh, la Juventus, eh, eh, hai giocato contro una squadra di Serie B tedesca, hai preso le pere. Sì, vabbè, dice quelli là, settimana dopo iniziavano il campionato. Tu avevi neanche iniziato la preparazione e non c'erano neanche i calciatori. Eh, eh, ma tu i titolari non li hai ancora tesserati. Eh, te lo dico io che sono il tuo giornale. Tu vai raccontando in giro che c'hai i titolari da tesserare e poi te li fai scappare tutti solo perché arriva uno, è un calciatore, gli offre 40 milioni cash più 4 di stipendio all'anno mentre tu 30 milioni non li volevi tirar fuori perché giustamente secondo te quello valeva tanto. Eh, eh, te lo sei fatto scappare tu. Però quando vai a guardare un calciatore che è venuto per 12 milioni di euro alla Juventus e l'Inter lo voleva fortemente però soldi non ce n'è, è lì, eh, avete speso troppi soldi. Oh, per un calciatore che non vale niente 12 milioni ma, eh, vedrete, vedrete, questo qua farà la fine di quello là che non ha giocato tutto il campionato e poi ve lo terrete sul goppone perché funziona così, voi non ci sapete fare. Non come noi che abbiamo Don Beppino. E lui sa sistemare tutto perché se un calciatore rimane è perché è la forte volontà del calciatore di rimanere e l'Inter lo accontenta. Se un calciatore se ne vuole andare è l'Inter che non lo vuole più e allora lo assecutano come dicono qua in Germania e lo mandano via perché non ci servi, perché ti sei comportato male, vedi Lukaku. Questo era per farvi capire come cambia il racconto in base alla squadra che si trova di mezzo. Io ve l'ho già detto tante, tante, tante volte. In questo caso volevo rispondere a chi diceva Voi ci avete il tutto sport che è il vostro giornale e il giornale della Juventus parla solo bene della Juventus. Infatti la Juve perde contro l'Atletico di Madrid e prende due schiaffi. Squadra tutta da ricostruire. L'Inter perde contro la nazionale della TIA e giustamente, oh, vabbè, può capitare. Non è che dobbiamo andare per forza a rompergli... Dico, l'ha capita, no? O te la devo rispiegare un'altra volta?